Salvò decine di famiglie ebraiche trovando il modo di farle espatriare per scansare la morsa mortale delle leggi razziali. Per questo il nome dell'arcivescovo di Trieste, Monsignor Antonio Santin, sarà collocato a Padova nel Giardino dei Giusti, lì dove trovano posto coloro che si sono opposti a tutte le forme di genocidio. Il 6 di marzo la sua rischiosa opera verrà riconosciuta post mortem. Santin ha fatto un lavoro diuturno con tanto cuore disinteressato proprio per poter dare l'opportunità alle famiglie e le persone ebraiche di Trieste di potersi salvare. Ecco questo è stato ricordato ancora negli anni 70 quando sono andato in Israele, il dottor Cohen che era originario di Trieste e che era il ministero dei culti, ecco gli aveva raccontato nomi di famiglie, di persone, di donne, di uomini che Santin aveva aiutato facendo documenti falsi perché potessero espatriare. Un riconoscimento che amplierà ancora di più i meriti riconosciuti e la storia di vita di un presule eccezionale, simbolo delle sofferenze giuliane per la grave aggressione che subì a Capodistria, poi tra gli esponenti decisivi che contribuirono alla liberazione della città e al ritorno di Trieste all'Italia, ma soprattutto il rovignese, ultimo di 11 figli di una famiglia di pescatori e operai, fu il difensore dei perseguitati, non solo gli esuli istriani, fiumani e dalmati, ma anche gli ebrei. Finalmente ecco che il comune di Padoa, analizzando veramente l'opera del Vescovo Santin, ha riconosciuto l'eroicità di questo intervento e la gratuità e il rischio che Santin ha fatto assieme a Morpurgo per gli ebrei di Trieste, quindi non solo per gli ebrei di Trieste, ma anche per gli ebrei di Fiume, che avendolo avuto come Vescovo facevano riferimento a lui. Grazie.